Le prime otto squadre della regular season della Serie A1 di pallavolo danno spettacolo. È l'assalto finale all'ambito trofeo nazionale. È la Del Monte Coppa Italia. Sette incontri tutti decisivi, dove ogni punto in campo è vitale perché ogni errore può costare l'eliminazione. Da mercoledì a domenica scopri il vincitore della Coppa Italia di volley maschile, in diretta su Rai Sport 1. Grazie a tutti.